Leggere è una passione e come tutte le passioni diventa ancora più bella se condivisa. L'occasione sarà a testo. Oltre 100 le case editrici ospitate alla stazione Leopolda di Firenze dal 24 al 26 febbraio. L'appuntamento sull'editoria è organizzato da Pitti Immagini in collaborazione con la stazione Leopolda da Un'idea di Todo Modo. Tanti gli ospiti illustri come Niccolò Ammanniti, Alessandro Piperno, Giampaolo Simi e Marco Vichi. L'idea di costruire un programma, un programma diviso in queste sette stazioni che raccontano un po' il ciclo completo di vita del libro con oltre 160 eventi per cui effettivamente una grande attenzione e anche una voglia di diventare una bella, grande, formidabile libreria dove si possono sfogliare i libri, si possono ascoltare e si possono anche comperare.